I profughi a Padova hanno trovato collocazione all'interno dell'ex caserma Prandina. I primi sono stati sistemati nel pomeriggio di giovedì, ma altri sono arrivati nella notte e probabilmente il numero è destinato a salire. Una sistemazione che ha colto di sorpresa. La prefettura, infatti, aveva comunicato di aver abbandonato l'idea di aprire le caserme dismesse. Poi il cambio decisionale, intrapreso per la troppa affluenza e l'impossibilità di lasciare queste persone per la strada. Da venerdì mattina la notizia è stata ufficializzata. L'ex caserma Prandina di Padova diventerà centro di prima accoglienza per i profughi. Gli immigrati arrivati giovedì sono stati ricollocati da una cooperativa della provincia in altre strutture e quindi l'ex caserma riceverà i prossimi arrivi. Intanto all'interno è stato allestito il necessario per l'accoglienza, brandine, docce e bagni chimici. Una soluzione che sta creando molte polemiche. Non è d'accordo il sindaco sulla decisione intrapresa, così come non lo sono i commercianti del centro che giovedì sera hanno protestato.